La situazione generale a Iesi è molto buona, dall'inizio dell'anno 2017 abbiamo una contrazione notevole dei furti, abbiamo invece un aumento delle persone denunciate e un aumento notevolissimo ma anche di persone arrestate. Tenga conto che nello stesso periodo del 2016, mi riferisco dal 1 gennaio al 30 giugno del 2016, quindi lo stesso periodo del 2017, nel 2016 gli anessi sono stati 48, invece nel primo semestre del 2017 sono stati il bene 44, il che il dato evidentemente parla da solo e sta a dimostrare l'impegno quotidiano che i carabinieri di Iesi ci mettono nel controllo del territorio. Così come è aumentato il contrasto allo spazio dei superfici, al contrasto del fenomeno dei furti, delle truffe, diciamo che l'impegno è generale verso ogni carabinieri di Iesi, i quali evidentemente si abbalgono anche della collaborazione, della cosiddetta sicurezza partecipata da parte dei cittadini, i quali evidentemente riponendo tanta fiducia nell'arma non esilano a chiamare il 112 o a rivolgersi presso le caserme dell'arma per rivedersi risolvere i problemi o evidentemente segnalare i fatti episodi che potrebbero avere ricaduti nell'ambito dell'ordine di sicurezza pubblica. Grazie. Grazie. Grazie.